Ciao a tutti ragazzi, un saluto di XMurri e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua in un nuovo gioco, cioè Mirage Arkham Warfare con Jumpy Tech and Stormy Mamma mia che è English Ciao, sono Stormy Lo vuoi dire Mirage Arkham Warfare? Mirage Arkham Warfare Mamma mia, Jams, ma mi stai veramente facendo... Eh, perché questa è l'emozione di Los Angeles, scoppa, mi sto studiando Ah, stai studiando, bravo, Jumpy fa i compiti, Jumpy fa i compiti Praticamente questo qui ragazzi è un gioco Sì, praticamente, come funziona questo gioco? Prego Stormy, vuoi spiegare tu che ci vedo molto... Sì, guarda, ci sono due compagini di questa, di questo appunto civiltà Compagini? E compagini l'ha imparato stamattina Ah, scusa, compagini forse è troppo difficile per il linguaggio Ci sono due divisioni di YouTube e prende, si piglia un'ammazzata E chi vince, vince la gloria Esatto, ci sono varie classi, per esempio questa qui non la dovete prendere perché non la so usare io Quindi penso anche voi Prenderemo la classe che poco fa utilizzavo insieme a Jams Sì, che è molto forte Più che è forte è molto agile perché in questo gioco l'agilità la fa da padrone La fa da padrone, ma anche il controllo e la precisione Perché se sbaglio una volta sei praticamente... Sì, sei firmato Sì, sei firmato la carta per la morte, perfetto Sì, ti sei comprato il posto al cimitero Esatto, con F1 potete vedere quali sono i vari attacchi che abbiamo Per esempio con qua abbiamo un dash attack che è questo BOMME KILL, attenzione signori Perché Jumpy Tech mi sa che mi ha sgubato la kill Oddio, 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 qua siamo proprio nel mezzo Un'altra kill, double kill signori Sì, ma aspetta che a te la faccio una punta Vai, Jumpy TRIPLE KILL Veramente, Jumpy, ma che sta succedendo? Mamma mia, siamo spaccato Nu poche scars, ora sei nu poche forte Sono un po' forte perché sto personaggio mi ha rispecchato Andate a me persona, diciamo Ma abbiamo lo stesso perché secondo me... Ai 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 ai, no, murri, murri, murri Pinchio di ste ca... Oh, tu non sei siciliano, non dovresti usare le mazzate, le mazze chiudate No, team kill Eh, Jumpy, voi si ammazzi con lì la nostra squadra, figlio mio Eh, vabbè, ha ammazzato acqua lì, non mi piaceva Io già sono a 0-2, ragazzi Sono addirittura sotto Papa Francesco Ma Papa Francesco dovrebbe essere pacifico come persona Pacifico, infatti adesso... Ma Papa Francesco Fratelli e sorelle, buonasera Guarda se riesco a lanciare sta cazzarola di mossa che intendi tu, Jumpy Quella dove lanci il pa... No, Raul Montana mi ha ammazzato È Raul Montana È quello della carne, è quello della carne Ho 5 stelle e Raul Montana Oh, raga, mi stanno squartando Io adesso cambio crassonaggio Buonasera Stormy Ah, senza vino non c'è festa Stormy No, mi hanno inculato da dietro, Malcolm, Malcolm Mamma mia che brucia Ho un'ha ammazzato una dopo 50 anni Madonna, raga, sono cazzatissimo Benvenuto Esatto, benvenuto nel club Kill 120, visto? Basta girarli alle spalle Sì, assurdo, cioè, troppo Triple kill Guarda Guarda, questo è forte, Pietro, assurdo Fermate, Jumpy Tech, impazzute, Jumpy Una torremutazione di Jumpy Tech Ma qual è il tuo segreto? Svelacilo Kill 120 quad kill Ma quanto sei forte, Pietro Raga, Pietro, credo che sia uno dei giocatori più forti di questo gioco del mondo Facciamo tattica insieme Mi spieghi dove devo partire, please Devi attaccarli sempre alle spalle, come ti ho già detto Di saltellare e prenda le spalle Bravo Io l'ho sparato proprio dalla coppola Sì, se spari dalla coppola la centrallina Dalla testa Ma che stavo parlando barese? Ma perché stavo parlando barese? Ma raga, è troppo figo questo gioco Oddio, oddio, raga Ma che sta succedendo? Sto imparando Perché? Madonna che mazzata che mi arrivai Ci sono veramente i guerrieri che sono proprio violenti Fanno... Prima ci sono guerrieri che stanno... Fanno violenza sulle ragazze che non si toccano nemmeno culo fiore Comunque ragazzi, ovviamente, se volete giocare al gioco, scaricarlo Ve lo lascio qua sotto in descrizione Madonna santa Eh, vabbè, però l'importante è che non giocate E se volete un corso intensivo su come si gioca Contattate in privati che... Contattate Giampy che a quanto pare è tipo super skillato A 50 euro la lezione, per favore, vi faccio diventare i privilegi più facili Vabbè, 50 euro è buono Tipo un professore di latino Tu lo sai un po' di latino Giampy? Giampy Deck, verba volante Ababus Parkinson Ma che significa? Non lo so Non è un detto quello Avemus Papam ad esempio Avemus Papam, ecco quello è Ah, ecco dovevo dire quello Parkinson Si, insomma Che ci sono, ha deciso una malattia Non sto performando come prima Ma che succede? Eh, hai perso lo smalto Ho perso lo smalto Ho perso lo smalto Lo devo fare di costruire Me lo devo fare prestare la mia ragazza Siamo vicini alla sconfitta Ti ho un'idea di come ne ho ucciso uno compatti No, nei camera tappa Che assurdo Ho fatto pure la carica Ma non è servita a niente Soppa io ho lanciato un chakra ammuzzo Tipo uno è uscito da un angola Anna Chiavo e morì io Non ho parole Sce che c'è questo era troppo incredibile come come scenografica ma quanto sei a morire di monte già via ragazzi state pure che adesso inizia la mia clinique spray e muori francesco ma quanto è forte sto coso oddio sto facendo una strage 0 rega senza non loro non lo riesco a prendere assurdo però ho fatto due kill jumpy sei pieno di me aspetta aspetta ok 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 no no nel senso già si fa i calcoli dopo non c'è una donna dobbia francesco oddio mezzetto senza quello stronzo vai 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 4 2 4 2 questa è stata messa tipo qua supina supina e quello che vende e quello che vende i pomodori papà rullo in coppa muori 4 3 attenzione ma cosa sta succedendo ha fatto le stesse kill della partita precedente in men che non si dica e muori guarda un po ma quanto è forte murio ho passato visto ha trovato lo personaggia trovate il chakra è troppo forte quando glielo lancio alle spalle e loro muoio tu ti senti proprio la reazione che ti pervade l'elezione o l'elezione l'elezione giorno 11 modo ma ammazzai se mi sono reso conto che il giorno 11 ci sono le votazioni al sindaco e noi non ci siamo io devo votare devo fare prima per favore ci manca solo la campagna elettorale nel mio video c'è sto video un puttanaio che fai puttana ah ma sei tu è la bianfire ma sei stupido mi sembravi un nemico io basito 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 mamma mia papà francesco lì 6777 raga darpolo gang fermatelo cioè veramente lui ha proprio l'arrabilione f lui va ammazzettate raga devo fare la cacca devo fare la cacca non siamo divertenti come youtuber perché non ci promuovano ma secondo me dovrebbero darci il milione così ad onore oh da ironi ti è ammazzato l'ironia stormy e guarda ironia della sorte proprio che battuta sembri la mia ragazza sembri la mia ragazza perché la tua ragazza non è divertente per la gente che non lo sa è stata bruttissima è la sua team kill bella c'è giampiero sei veramente il disonore della tua famiglia scupa no scupa ehi piccoli di me sei ultimo ma non so perché hai fatto sta cosa e allora stai zitto disonore della mia famiglia è un paro da parlo facisti 7 assist compa ma chi si andrà a pirlo che la corsa sempre in mezzo è vero comunque il team viola è troppo forte Giorgio non ascolterò mai più i tuoi consigli per il team guarda papà mamma mia c'è coppa 5-11 c'ho passato nel team viola io ma infatti stai facendo ma hai reggiquittato ma che significa ha cambiato il team è veramente un famo e bastardo guarda che conto sei pinnolone ti ammazzo sempre ci scommetti meglio piccola kill 100 ma ha ammazzato lo sappia ma io bastardo dormi dai fai qualcosa oh ma sono 11-12 che mica vuoi 15-18 quanto fa ho ammazzato un compagno mamma mia ma porto sfiga che mi devo dire ma veramente ma fatti un bagno al lorde guarda dopo il kill sto facendo sto facendo le peggio cose mi ho perso no guarda che l'ho fatto io mi ho perso no se ovviamente Sergio del 777 però da notare che da quando è uscito Murray ho fatto tipo 5 kill tutti gli spri cioè ma fai se veramente la persona e Stormy ha iniziato a perdere su sto gioco e Stormy è tipo pazzo Murray porta sfiga aspetta ripetelo di nuovo quindi se il video vi piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace ragazzi link in descrizione se volete giocare al gioco noi ci vediamo al prossimo video wuuu